Oggi si è parlato del conto satellite dello sport, un settore di attività che coinvolge tanti cittadini, non soltanto i professionisti. Quale dimensione di valore economico, occupazionale l'ha colpita di più come campione olimpico e soprattutto quanto può essere utile una misurazione del valore economico dello sport? Mi piacerebbe dire che finalmente abbiamo trovato un cronometro anche per misurare nel modo giusto il grande valore a 360 gradi proprio dello sport. Non solo il grande valore di una vittoria, un grande valore dell'Olimpia, di diritti televisivi, quello che è facile da vedere, ma in particolare per quanto mi riguarda il grande valore che ha lo sport a livello sociale, a livello educativo, a livello formativo, a livello di capacità di far crescere ragazzi e ragazze, di far crescere tutti noi, non solo nella modalità sto bene fisicamente, che non è poco, ma soprattutto nella modalità di un equilibrio del muoversi, stare bene fisicamente con altrettanto stare bene con il proprio se stesso, con la tua intimità, con la gioia di vivere, con il benessere che dallo sport facilmente scaturisce. Cioè una dimensione più sociale dello sport che guarda un po' a tutti, non solo quelli che sono bravi, che fanno le gare, ma anche alle mamme, alle zie, alle nonne, a chi va in pensione per esempio. Una specie di nuovo welfare del facciamo un movimento insieme per stare meglio, per vivere meglio quella parte o le parti di vita che stiamo vivendo. È una semplicità perché sta nella natura il movimento, però tante volte nella nostra nuova società, quella comoda, quella da poltrona, non ci viene così facile. Quindi io credo che queste misurazioni siano le misurazioni del futuro, ovviamente le misurazioni dei grandi risultati, quelli che sappiamo, quanto valgono, valgono tanto. Ma queste misurazioni, queste esternalità positive dello sport un po' più nascoste sono da sviluppare, quindi dobbiamo raccogliere i dati e io sono convinta, perché ci credo moltissimo, questi dati ci daranno veramente indicatori, saranno indicatori per il nostro futuro su come dobbiamo muoverci come Paese, ma soprattutto come possiamo far star meglio le persone tutte.